Era solo un anno fa. Solamente un anno fa mi cullavo nella pancia di una tizia che ora so diventata la mia mamma. Stavo comodo davvero, mi portava sempre a spasso. E la sera, per finire, accidenti quanto chiasso. E poi quante capriole che mi costringeva a fare e mi domandavo serio, ma chi stanno a combinare? Mi sentivo un po' osservato, anche se io da lì dentro non vedevo chi diceva. Ma che bravi ballerini! E con questo bel pancione non ti stanchi per davvero. Non ti viene mai il fiatone. Ma chi è che sta parlando? Ed allora mi dicevo, voglio uscire, son curioso. Ci sarà, accidenti, un modo per conoscere lì fuori. E così, il 7 settembre, ho iniziato a toc toccare. Prima piano, poi più forte, ma io non riuscivo a uscire. Ma porcaccia la miseria, ma chi è che mi ha legato? Devo fare qualche cosa, di star qui mi son stancato. E a quel punto, piano piano, dopo un giorno che bussavo, finalmente mi hanno aperto. Finalmente sono nato. È così che ho conosciuto chi cantava Ninna Nanna, chi diceva, sono il babbo, chi diceva, son la mamma. Questo primo anno di vita non è stato niente male. Tanto cosa devo dire? La mia mamma ed il mio babbo mica li posso cambiare. La mia mamma ed il mio babbo mica li posso cambiare. La mia mamma ed il mio babbo mica li può cambiare. La mia mamma ed il mio babbo anche li posso cambiare. Ma per centavo a noi non è stato niente male. La mia mamma ed il mio babbo mica. Grazie.